Si chiama bilancio partecipato ed è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della città, consistente nel segnare una quota di bilancio del comune alla gestione diretta dei cittadini, che così possono scegliere direttamente i progetti da realizzare. Grazie ad una delibera approvata dal Consiglio Comunale, il bilancio partecipato è stato adottato anche dal comune di Fano, che l'altra sera l'ha presentato alla città. La procedura per avviarlo inizia direttamente oggi e si concluderà l'8 marzo, quando risulteranno i progetti da realizzare. Il nuovo strumento, oltre che dal presidente della Commissione bilancio Giovanni Fontana, è stato illustrato dagli assessori Sara Cucchiarini ed Etienne Lucarelli. Un percorso trasversale partecipato dove i cittadini possono presentare la propria candidatura o a vedersi finanziare un progetto da parte del comune, oppure possono presentare la propria candidatura a farsi, detta impropriamente, giuria popolare, e cioè fare parte del gruppo di valutazione dei 30 soggetti che andranno insieme ai tecnici del comune a individuare i 14 progetti ammissibili che saranno poi messi in piattaforma e aperti al voto di tutta la cittadinanza e il voto online. E come fanno per presentare questa candidatura? C'è un sito bilanciopartecipato.it oppure possono richiedere informazioni all'URP in piazza 20 settembre con una modulistica che da oggi è reperibile ed è online con un avviso che è stato emanato da stamattina e sarà aperto fino al 22 di gennaio. Sono da compilare in carta semplice e da protocollare in comune. Fino a quanto si possono spingere i cittadini? Sono progetti che incidono il nostro bilancio come investimento, quindi in conto capitale e sono progetti che possono avere un tetto massimo di finanziabilità di 50.000 euro. Oggi entriamo proprio nella struttura, quindi chiunque vuole può adoperarsi per presentare progettualità che aiutano i quartieri a crescere e che portano avanti dei contesti anche urbani interessanti. Ecco, ragionare questo, farlo insieme, farlo in modo diffuso, farlo con i quartieri, farlo con le persone, farlo in modo partecipato è veramente una sfida importante. Adesso ovviamente per quest'anno partiamo con una sperimentazione, ma è una modalità, una visione che dobbiamo dare anche al futuro della nostra città. Credo che sia un progetto ambizioso e sia la modalità giusta anche di progettare alcuni contesti per la città di Fano. Grazie. Grazie.